Un caro saluto da Diego Fusaro. Parte a metà novembre il mio nuovo corso online che si intitola La Nuova Guerra Mondiale, un corso di pensiero critico aperto a tutti. Si svolge su piattaforma digitale quindi potrete seguirlo ovunque voi vi troviate. Se perdete qualche lezione poi avrete i video disponibili del corso. Ogni lezione prevede una prima relazione da parte mia e poi un dibattito con chi si iscrive al corso. L'obiettivo è sviluppare un pensiero critico, filosofico e politico intorno alla guerra tra Russia, Ucraina e anche Stati Uniti che è di fatto una nuova guerra mondiale a tutti gli effetti. Le lezioni sono sei, si parte da metà novembre, si arriva fino al 21 dicembre, una lezione alla settimana, si parte da un'analisi del post 1989, si parla della Nato e della sua espansione, dell'attrito con la Russia di Putin e poi della guerra in Ucraina come nuovo fronte del conflitto, come punto caldo della nuova guerra fredda e si esamineranno oltre alle situazioni concrete anche i possibili sviluppi e gli scenari eventuali a venire. Per iscriversi al corso basta andare su www.filosofico.net, sulla pagina principale si trova in bella vista la locandina, basta cliccare e ci sono tutte le modalità per iscriversi e partecipare al corso. Corso che ripeto avviene online su piattaforma digitale da metà novembre, ogni settimana una lezione il mercoledì alle ore 15 o più precisamente dalle ore 15 alle ore 16 e 30. Abbiamo posti disponibili quindi vi aspettiamo numerosi per questo corso di pensiero critico online aperto a tutti, di cui trovate maggiori info, ripeto, e anche la possibilità di iscriversi su www.filosofico.net e ora potete vedere qui di seguito la locandina intanto. Vi aspetto numerosi per pensare criticamente. Un caro saluto da Diego Fusaro.